Inter, Samarczyk accelerata, Marotta tenta l'affondo. Il calciomercato dell'Inter si infiamma con il profilo di Samarczyk che è pronto ad approdare alla corte nerazzurra, Marotta è infatti vicino a chiudere un colpo importante per la rosa di Inzaghi. Con la nuova stagione che si avvicina sempre di più all'avvio, a muoversi in chiave calciomercato è l'Inter. Infatti i nerazzurri, oltre a valutare il profilo del portiere, starebbero pensando di affondare il colpo anche per Samarczyk. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Udinese potrebbe essere una soluzione più che concreta per la rosa di Inzaghi in vista della prossima annata. Dunque il colpo Samarczyk sembrerebbe essere in dirittura d'arrivo, con Inzaghi che si prepara ad accogliere l'ennesimo innesto del reparto centrale del campo. Infatti l'Inter, molto attiva sul calciomercato, dopo aver chiuso Frattesi sarebbe ad un passo dal centrocampista. In vista dell'Udinese che potrebbe rappresentare un vero e proprio jolly in ottica futura. La sua duttilità permette a Samarczyk di ricoprire più zone di campo, a partire dalla mezzala fino ad arrivare alla trequarti campo. Dunque un calciatore che potrebbe far comodo a Inzaghi che lo sfrutterebbe così a seconda anche delle esigenze dell'Inter. Certo è che ancora mancherebbero gli ultimi dettagli per chiudere e, nei prossimi giorni, si saprà l'evolversi della trattativa con Marotta che spera di chiudere il prima possibile. Samarczyk negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale con la maglia dell'Udinese. Con il tempo ha infatti preso le redini del centrocampo bianconero, diventando un vero e proprio leader e questo lo avrebbero notato diverse squadre tra le quali l'Inter. Proprio per questo motivo Marotta vorrebbe provare a portare alla corte di Inzaghi un calciatore come Samarczyk. Le sue doti, sia fisiche che tecniche, unite alla sua intelligenza tattiche potrebbero fare la differenza e aiutare la rosa del tecnico a fare quel salto di qualità per puntare alla vetta della classifica. A dimostrazione di ciò sono i numeri del centrocampista dell'Udinese che nell'ultima annata ha collezionato ben 5 gol e 4 assist in 37 gare disputate.